buongiorno sono sergio condello sono il responsabile commerciale per la calabria della micro geo e della geomax ringraziamo oggi l'istituto di formazione terina che ci ha invitato a questo workshop a soveria mannelli i temi di oggi saranno sostanzialmente basati sulla aerofotogrammetria utilizzo dei droni e agricoltura di precisione noi siamo presenti io sono presente qui con due marchi che sono esattamente micro geo e geomax geomax si occupa della geomatica anche finalizzata all'utilizzo dei droni sia in agricoltura che per altro tipo di riprese presentiamo oggi come micro geo anche un sistema di rilievo laser scanner con uno dei marchi da noi rappresentati il cam 2 il focus faro focus della della cam 2 ringraziamo il dottor marcello chiodo per l'opportunità che ci ha dato e auspichiamo che la manifestazione vada nel migliore dei modi grazie buona giornata